Ciao ragazzi e bentornati in un altro video su 5 cose che potreste non sapere di Dota 2 La prima tratta di Earth Spirit, infatti può usare la sua prima mossa sulle trappole DTA, la ward di pugna e addirittura sui cogs di clockwork. Nonostante ciò però questi oggetti non si muoveranno e pare che non stordiscano i nemici ma infliggono tutto il loro danno. Passiamo quindi alla seconda cosa. Pudge può tirare Hook all'indietro semplicemente cliccando sul suo ritratto sotto il suo nome dopo aver selezionato il suo gancio. In questo modo ignorerà completamente la direzione verso la quale è rivolto. Se l'eroe, stando vicino a Brave King con Aghanim alleato, muore a causa del tornado di invoker, non otterrà i benefici della ulti di Brave King, probabilmente a causa del dispel applicato dal tornado di invoker. La freccia di Mirana ha un'interazione molto particolare con Everlands. Infatti sì, viene aumentata la cast range dell'arrow, ma non la distanza di viaggio della freccia che quindi scomparirà comunque dopo 3067 unità. Infatti il cast range e il max travel distance sono due cose a sé, rispettivamente 3000 e 3067, come si può constatare dalla wiki. Quindi Everlands aumenta solo uno dei due valori, ovvero la cast range. Quinta e ultima cosa, è possibile tenere traccia del vero Phantom Lancer dopo l'utilizzo di doppelganger? Basterà attivare precedentemente un vero della discordia su di lui. Infatti le illusioni non porteranno il debuff mentre il vero Phantom Lancer sì.